La Lucchese allunga la sua striscia positiva al Comunale, dove non perde dalle 2004. Finisce 0-0 ed è un risultato che ci sta, anche se l'Arezzo comanda a lungo il gioco e si costruisce le palle-gole più pulite. Dal canto recupera Basitta centrocampo, Favarin mette in campo una squadra battagliera nonostante il marasma societario. La partita comincia su buoni ritmi, l'Arezzo la prende in mano e forse la sbloccherebbe se l'arbitro concedesse il penalty per questa vistosa trattenuta di Favale su Serrotti. Tremolata di Monza, guarda Brunori che crossa e non cosa succede dentro l'area, episodio che sfugge anche all'assistente Ceccon. Fatto sta che il replay mette in evidenza la maglia che si allunga di Serrotti che poi finisce a terra. La Lucchese è in partita, i calci piazzati creano sempre qualche apprezzione alla difesa Maranto. Al minuto 19 Pelagotti viene chiamato in causa per la prima volta da questo colpo di testa di Sorrentino. Il treno per sbloccare il punteggio ripassa prima della mezz'ora. Guardate Brunori, stop e tiro con una rapidità impressionante, trema l'incrocio dei pali con Falcone che non ci sarebbe mai arrivato. All'Arezzo manca un po' di brio nel giro palla che è elegante ma va avanti a fiammate come quella che al quarantesimo porta il tiro cutolo e che fa calare il Sipario su un primo tempo più amaranto che il rosso-nero. Quando le squadre tornano in campo la Lucchese finisce alle corde, Bortolussi quasi sulla riga di porta nega Pelagatti il suo primo gol in campionato. L'Arezzo attinge dalle ultime riserve di energia e per un quarto d'ora tiene gli avversari dentro la metà campo. A metà frazione esce Buglio e dentro Belloni, poi si fa male Basit e dal canto manda dentro Zappella passando al 4-2-3-1. Si va avanti più di ardore che di lucidità e servirebbe anche l'episodio giusto per schiodare lo 0-0. Come in questo caso quando Luciani sfonda in area rossonera, però Zappella non trova la deviazione sotto misura e poi sul controcross di Cutolo Serrotti viene murato a un passo dalla segnatura. La Minghelli prova a spingere la squadra verso la terza vittoria consecutiva ma neanche i calci piazzati oggi sono proficui. Qua Pinto e Pelagatti mancano il colpo decisivo sulla parabola liftata di Serrotti. Dal canto si gioca le ultime chance con Bruschi e Persano ma gli unici tiri in porta sono di Sorrentino in ripartenza. Fuori una deviata provvidenzialmente da Pelagotti l'altra. L'Arezzo resta secco di gol dopo dieci giornate in cui era sempre andato a segno e chiude il 2018 con un punto che non lascia troppi rimpianti e che vale comunque il secondo posto della classifica.